Un saluto dalla redazione di Roma Servizi. Per la mobilità sono stati avviati i lavori per realizzare la nuova pista ciclabile tra l'Università La Sapienza e la stazione Termini. Lo ha fatto sapere l'assessorato Capitolino. Ai trasporti l'intervento rientra nel piano dell'amministrazione per aumentare i percorsi pedonali e ciclabili e integrarli al meglio con il trasporto pubblico. L'obiettivo è realizzare altri 150 km di piste ciclabili entro tre anni. La ciclabile tra la stazione Termini e la Sapienza sarà lunga 750 metri ma avrà un notevole impatto sul traffico di quella zona perché offrirà un agevole e alternativo collegamento tra lo snodo di Termini e l'Università.